ciao a tutti amici di youtube luna rossa family ben trovati in questo nuovo video oggi andiamo a vedere cosa succede più o meno cosa succede o cosa potrebbe succedere o cambiare quale soprattutto rivoluzione ci sarà con questa luna nuova in ariete allora penso che se siete interessati all'argomento avrete sicuramente già spulciato l'argomento magari ecco attraverso altri contenuti attraverso altri canali o attraverso altri siti la luna nuova in ariete è la seconda luna consecutiva non è passata nel segno del toro per pochissimi diciamo ecco gradi e quindi rimane in ariete significa che è come se si è creato praticamente una sorta di corridoio dalla precedente luna in ariete a questa luna in ariete quando poi transiterà nel toro tra l'altro ci sarà beltein nel frattempo ci sarà un'altra luna piena molto importante ecco fra 15 giorni e questo praticamente fa da questa luna fa quasi da detonatore se così si può dire quindi cosa va a detonare un detonatore per qualcosa che fondamentalmente ecco già iniziato molto tempo fa in modo particolare sia in qualche modo ecco cristallizzato e forse non si è portato a termine ecco che l'universo in questo senso interviene con saggezza con questa seconda luna nuova in ariete per smuovere delle cose per sanare delle ferite per liberarvi da qualcosa in definitiva c'è una rivoluzione in questo senso in atto qualcosa che ha a che fare con diciamo ecco delle forze tra l'altro ci sono delle energie molto forti c'è anche un eclisse in questa luna mentre pubblico il video fondamentalmente già l'eclisse avvenuta in ogni caso siccome ecco questa luna si porta nelle 12 ore anche successive tenete da conto che fino alle 18 alle 20 di oggi non è il caso di fare riti di fare niente né di manifestare né di fare leggi di attrazione di fare niente di niente perché c'è un po di tutto in questo senso ecco nell'universo quindi non andatevi fondamentalmente sì per chi è pratico diciamo ecco con la bicicletta sia per chi è a piedi o anche con un bolide diciamo non conviene è meglio di noi è meglio rinviare diciamo a quando c'è meno casino c'è meno manicomio c'è meno di tutto di più in questo momento in modo particolare per quelle che sono le forze araminiche allora vediamo un po le varianti sono due per la prima variante abbiamo questa adularia è sempre una pietra di luna con queste per le scienze e poi abbiamo la labradorite anche questa è una pietra di luna con questa caratteristica insomma ecco che vedete potete scegliere quale variante può fare al caso vostro potete anche ascoltare entrambe ecco le varianti io direi di iniziare ecco immediatamente con la prima variante e il resto lo vedremo appena faremo le stese il video è suddiviso per capitoli ricordatevi sempre che io parlo al femminile perché per il mio genere mi identifico con la consultante però ovviamente il video vale sia per gli uomini sia per le donne sia che si tratti di situazioni sentimentali o meno nel caso che voi siate etero o arcobaleno adesso potete postarvi nella variante che vi interessa benvenuti a voi amici che avete scelto la variante della adularia metto il vostro cristallo qui iniziamo subito a fare la vostra stesa vediamo un po cosa c'è qui per voi abbiamo un 3 di spade un 9 di spade quante spade abbiamo un 2 di bastoni allora qui si parte da sicuramente ecco una perdita una sofferenza abbiamo qua un cuore trafitto da coltelli da spilli c'è un po di tutto a dire la verità c'è una chiusura un allontanamento qualcosa che è finito comunque che vi ha fatto sicuramente ecco soffrire o anche se non è finito perché per qualcuno potrebbe anche essere un po così c'è qualcosa che sembra finito però magari ancora porta delle energie in questo senso nella vostra vita e sono energie con delle vibrazioni molto basse perché vi causa ecco in questo senso dolore e sofferenza c'è preoccupazione ecco c'è come dire ecco un sostare in questa sofferenza c'è fondamentalmente come dire ecco una paura è come se vedete anche qui si vede in questa immagine in questa iconografia diciamo che è come se questi panni stesi ancora non si fossero diciamo asciugati non è arrivato il tempo praticamente ecco di toglierli via è proprio questo che si va a smuovere questi panni stesi per qualcuno si può trattare sapete quando si dice i panni sporchi si lavano in casa per qualcuno si può trattare invece di panni sporchi che o hanno sporcato mentre voi in qualche modo ecco li avevate se vogliamo ecco lavati e ve li hanno imbrattati adesso si tratta in qualche modo ecco di smuovere una certa situazione che ha a che fare con un dolore con dei panni sporchi che ha a che fare con qualcuno che in qualche modo ecco vi ha sporcato una qualche situazione che voi ritenete vi abbia sporcato che invece doveva essere candida, pulita, da sistemare questa era la vostra o sarebbe la vostra percezione forse ancora quel tipo di energia che possiamo considerare in qualche modo latente ha a che fare con questo desiderio di purificazione e pulizia cosa si va a smuovere? guarda si va a smuovere qualcosa che ha a che fare con un video, con una scelta il 2 di bastoni è una carta che parla di diciamo ecco una collaborazione o la possibilità anche di prendere una strada diversa quindi ecco quello che si va a smuovere è proprio una direzione ben precisa siete lì ad un video e quindi assai probabilmente quello che si capisce che andrete a prendere in questo senso ecco una strada e la strada è quella che comunque che sia collaborazione che sia diciamo ecco ognuno per i fatti propri quindi una chiusura magari con delle persone con delle circostanze che può essere diciamo ecco ultime e definitiva in ogni caso porta come risultato per voi un godimento, un benessere, una soddisfazione soprattutto dal punto di vista emotivo a fronte di questa sofferenza che abbiamo visto con il 9 di spade il 9 di coppia è una carta molto bella perché parla praticamente di felicità di piacere e di godimento quindi in definitiva diciamo ecco quello che si va a smuovere ha a che fare con qualcosa che poi vi porta un benessere che vi porta un piacere ripeto e torna a dire anche una soddisfazione in questo senso come dire quando uno dice ah che bello è arrivato adesso me la godo adesso mi godo lo spettacolo vediamo se si vede qualcosa dalla quale vi liberate ricordatevi questa luna è un detonatore e ricordatevi anche che le cose non accadono per cascata perché infatti qui cosa abbiamo visto c'è il video c'è la scelta allora da cosa di liberate qui abbiamo un re di spade abbiamo un 7 di spade guarda è la forza bellissime carte a fondo mazza abbiamo il 4 di coppe allora vedi qua c'è il 4 di coppe è una carta che parla di una insoddisfazione abbiamo qua una sorta diciamo ecco di salamandra un ranocchio chiamatelo come volete comunque una creatura a sangue freddo che si guarda allo specchio davanti ecco al suo beauty table e magari ecco si aspettava in qualche modo ecco una immagine riflessa allo specchio che parla di bellezza e non di bruttezza fondamentalmente diciamo ecco vi liberate da una falsa percezione probabilmente ecco di voi stessi voi non avete bisogno di essere baciati come il ranocchio per diventare principi o principesse questo deve essere chiaro qua c'è stata una certa severità che avete probabilmente ecco subito è che in qualche modo diciamo ecco vi ha coinvolto qualcuno che nei vostri confronti doveva essere una persona rara una rarità una persona che in qualche modo diciamo avrebbe dovuto dimostrare di essere una sorta di king una persona che realizza che fa una certa serietà avrebbe dovuto portare ecco nella vostra vita invece abbiamo avuto diciamo ecco una persona che in qualche modo ha portato la severità sì di una persona che ha sofferto ma forse nei vostri confronti è stata troppo cinica, troppo dura vi liberate da praticamente ecco un cinismo che fondamentalmente ha creato come dire ecco dei malintesi un inganno, un tradimento il sette di spade è una carta che parla proprio di tradimento che parla di persone che hanno avuto questo cinismo ma per un fine furbo per un fine come dire ecco ingannevole non voglio dire che c'è stata in atto una manipolazione in questo senso ma certamente c'è stato un inganno in definitiva c'è stato un inganno forse qualcuno si è celato con delle mentite spoglie appunto no? e quindi vi libererete proprio da questa da qualcosa per la quale vi sentite appunto ecco traditi ma tutto questo in definitiva tenete anche da conto che non rimane solamente come liberazione verrà trasmutato con questo arcano maggiore ci siete rimasti male vi ricordo vi è stata data un'immagine di voi che non è la vostra a dire la verità è come qualcuno vi ha voluto fare sentire abbiamo anche qua delle cipolle come dire anche qualcuno che in qualche modo ecco vi ha fatto piangere una forza d'animo abbiamo una forza d'animo molto importante perché è così che l'andate a trasmutare questa cosa è anche una forza d'animo che in qualche modo vedi ci dice che raccoglierete con questa carriola tutto quello che è stato per come dire ecco imbracciare un sentiero con un bagaglio se vogliamo ecco che non vi portate come un vestito generalmente diciamo ecco la carriola a che cosa serve? serve a raccogliere come dire per esempio l'erba secca del giardino serve a raccogliere i residui di un lavoro fatto che so qualche riparazione edilizia cose di questo tipo serve per togliere quelle cose e metterle in un angolo per poi disfarsene in maniera definitiva quindi fondamentalmente cosa andate a mettere in questa carriola? tutto questo tutto questo inganno questa severità tutte queste cose che non vi hanno dato ecco benessere adesso viene liberata a fronte di un sentiero che vi aspetta della primavera andate a riparare e vi trasmutate tutto quello che è stato in ganno in un'energia nuova che vi porta ecco in una direzione che vi fa crescere dal punto di vista emotivo e dal punto di vista soprattutto esistenziale quindi andate a fare letteralmente ecco una switch molto importante vediamo cosa si sana mi ricordo anche che non è detto che capitano che capitino tutte queste cose perché dipende anche come dire ecco dal vostro segno giudiacale dal vostro tema natale però ecco sicuramente voi potete prendere ciò che vi risuona vediamo in ambito diciamo ecco di guarigione cosa va a detonare questa luna nuova in ariete che porta il segno del fuoco dell'azione del principio è proprio il primo segno giudiacale della ruota dello zodiaco re di pentacoli cinque di bastoni e la papessa wow a fondo mazzo abbiamo la regina di bastoni ok qua diciamo ecco la regina di bastoni qui abbiamo una tigre tra l'altro diciamo che la regina di con queste ali di aquila addirittura no la regina di bastoni porta l'energia del sempre del fuoco del coraggio quindi vi fa andate in una direzione come dire ecco in cui siete più solide ma senza perdere il vostro essere delle persone ecco amorevoli probabile che è successo qualcosa che vi porta diciamo ecco una ferita di con questo inganno no a non fidarvi più della gente in realtà in definitiva quello che si vede no è che voi non subite diciamo ecco questo colpo ma lo trasmutate in una maggiore forza che vi porta non solo diciamo a non perdere la fiducia nei confronti degli altri e questo è qualcosa ecco di buono ma soprattutto diciamo ecco di destino come la giraffa ad avere una visione un po' più elevata perché è l'animale che ha il collo più lungo in questo senso forse anche tra i più alti terrestri che ha diciamo che raggiunge un'altezza un'altezza ecco maggiore e quindi a vedere le cose anche da un punto di vista se vogliamo dire così spirituale ma allo stesso tempo a come posso dire a ad essere comunque vigili a vedere le cose non da un altro punto di vista ma ad essere più acuti a studiare di più le situazioni quindi riprenderete a fidarvi sicuramente ecco degli altri ma come dire ecco senza senza diciamo ecco dare subito fiducia e disponibilità il 5 di bastone è una carta come dire ecco come se fosse una sorta di altalena su un perno quindi parla di qualcosa nella quale si può competere quindi andrete a capire a vedere se ne vale la pena oppure no prima di dare la vostra fiducia e la vostra amorevolezza ecco in futuro in ogni caso lì dove andate a depositare se vogliamo è quella vostra fiducia il vostro amore qualunque cosa voi volete mettere in campo perché comunque i pentacoli parlano di tante cose parlano di amore parlano di concretezza parla di lavoro di impegno di azione e parla anche di la parte eterica la parte spirituale e non ultimo parla anche di pensieri di opinioni di idee anche se vogliamo a volte di condizionamenti ma principalmente di quello che voi pensate che fa parte di voi stessi come pensiero come forma mentis siete king siete re quindi significa che in ogni caso voi andate a costruire andate a costruire le vostre relazioni che siano di amicizia di affetto che siano familiari su delle basi totalmente diverse quindi lì dove ripeto voi avete subito partendo da questo tre di spada è una sofferenza molto forte questo bivio è un portale tra l'altro si apre una sorta di corridoio attenzione perché adesso vi ricordo che abbiamo questa eclissi adesso che è un eclissi solare che poi diventa di qui a pochissimo tempo un eclissi lunare mi pare al adesso ve lo dico con precisione mi pare al 5 di maggio che quindi sarà la prossima luna infatti la prossima luna piena ci sarà questa eclissi solare quindi si crea questo corridoio di eclissi e l'eclissi sono dei fenomeni molto importanti dal punto di vista energetico per tutti per tutto il pianeta diciamo ecco che ha quest'influsso appunto ecco della luna perché il satellite è nostro no? quindi in questo corridoio può accadere proprio tutto questo può essere una fase ecco come dire ecco di studio ma uno studio che li porta sicuramente diciamo ecco non dico diciamo ecco al successo di un'imperatrice ma ripeto fa da detonatore quindi il percorso non si conclude ma inizia in una strada in un cambiamento assolutissimamente importante e anche di destino se vogliamo ecco forte perché voi andate anche ad affinare quello che è il vostro intuito la vostra intelligenza con il silenzio anche con l'attesa con l'introspezione ma non un'introspezione di un essere ripiegati con se stessi ma una introspezione nella quale ciò che è fuori da voi lo leggete con il vostro abecedario dentro di voi andiamo a vedere la rivoluzione che c'è per voi lo vediamo con un arcano maggiore vediamo qual è la rivoluzione che vi riguarda la temperanza ottima carta la temperanza è una bella carta anche con tempi se vogliamo un po' lunghi qui abbiamo una trasformazione le cose si rimescolano questa è la la rivoluzione quindi anche lì dove su una situazione specifica tra virgolette c'è stata una chiusura un un crollo totale mettiamola così una sofferenza questa cosa si rimescola quindi diciamo ecco non è in realtà come dire con una chiusura definitiva sulla quale non si torna sulla quale non si torna più probabilmente si ci ritorna con dei termini totalmente diversi con un vostro se cambiato la detonazione è proprio questa qui che una certa sofferenza vi causa un cambiamento ma un cambiamento per il meglio non un cambiamento come dire ecco per come per chi ne resta schiacciato quindi è una un cambiamento come dire ecco attivo e non reattivo o passivo ok quindi bellissima carta probabilmente diciamo ecco la detonazione ma poi diciamo ecco le cose maturano con dei tempi in ogni caso la detonazione c'è e a che vedere con qualcosa che riguarda l'equilibrio il far decantare le cose perché come vedete ecco le cose passano da una brocca all'altra e niente di strano che prima di fare questa sorta di travaso tra l'altro c'è qui un angelo per il mezzo quindi possiamo considerare le forze buone certamente ecco dell'universo è come se in qualche modo facessero questo tipo di purificazione rispetto a ciò che di brutto ha decantato adesso solamente la parte buona passa in quest'altra brocca ok per voi amici che avete scelto la dularia è tutto fatemi sapere come vi risuona buona detonazione a tutti e ci vediamo per un prossimo video a presto ciao benvenuti e bentrovati a voi amici che avete scelto la variante della pietra di luna labradorite vediamo un po' cosa succede ecco per voi ricordo anche a voi che potete anche ascoltare entrambe le varianti io adesso non so che cosa arriva qui andiamo a vedere qual è l'effetto detonatore di questa luna nuova in ariete abbiamo questo bis l'universo fa le cose per bene quindi qualcosa come se si fosse acceso diciamo ecco un cerino che va a detonare una bomba in qualche modo e forse diciamo ecco la miccera troppo lunga e allora vedi è qualcosa che in qualche modo sta andando avanti adesso la detonazione sostanzialmente diciamo ecco avviene ecco l'universo che fa le cose per bene vi ricordo anche che adesso avremo anche Beltane il primo maggio avremo anche quindi una festa molto importante in questo senso quindi anche lì voglio dire ecco nell'antichità per noi italiani diciamo la festa di San Giuseppe la chiamiamo anche la festa dei lavoratori ma c'è anche questa eclissi del 5 di maggio che sarà un'eclissi lunare invece adesso abbiamo un'eclissi solare che non si vedrà in Italia si vedrà diciamo ecco in Australia in altri paesi tenete da conto che si crea un corridoio in questo corridoio di energie a partire da adesso con un altro corridoio che si è creato tra la precedente luna nuova a questo bis della luna nuova in ariete passa attraverso Beltane e poi ecco va a raggiungere come si suol dire il suo picco massimo in quella che sarà la luna piena del 5 maggio con quest'altra eclissi e l'eclissi sono diciamo ecco dei portali energetici molto forti tra l'altro ricordo anche a voi come ho detto anche gli altri amici che quando ci sono le eclissi niente rituali niente manifestazione niente di niente tutto quello che ha a che fare con se vogliamo l'universo e le energie diciamo ecco aspettate tempi in cui non c'è troppo affollamento mettiamola così adesso quindi vediamo che cosa succede in questa occasione per voi che avete scelto questa variante cosa ha a che fare diciamo ecco con il rischio cosa andrete a muovere nove di pentacoli la luna e abbiamo l'otto di coppe a fondo mazzo abbiamo un cavaliere di coppe ok allora qui abbiamo diciamo ecco qualcosa che ha a che fare con il piacere personale a livello come dire ecco edonista quindi c'è una certa come dire qualcosa ecco di nascosto se vogliamo per voi che avete scelto questa variante qui vedete abbiamo qualcuno che sale su un treno su una metropolitana intraprende un viaggio anche la valigia si porta in questo caso diciamo ecco qualcosa generalmente l'otto di coppe si lascia alle spalle tutte quelle che sono le coppe quindi come dire con le emozioni i sentimenti invece qui abbiamo qualcosa che uno porta come bagaglio no o per lo meno il bagaglio che è necessario il bagaglio qualcosa si salva di tutto questo edonismo quindi diciamo ecco è qualcosa che ha a che fare con o voi o qualche altra persona che che ha maturato diciamo ecco un atteggiamento ambiguo che non si capiva o non o non si è capito se qualcosa in questo senso vi può portare felicità benessere tra l'altro comunque il nome di pentacoli anche una carta diciamo ecco che parla di quello che viene definito la persona diciamo ecco single che se la passa benissimo fondamentalmente no che passa lì e fa il fenomeno no che tutti l'ammirano eh qui abbiamo diciamo ecco una un personaggio che invece sta come dire ecco su una su una carrozzella quindi qua fondamentalmente diciamo ecco tutto questo splendidume in realtà c'è la una sorta di parliamoci chiaro una sorta di invalidità quindi questo edonismo in realtà non è stato un vero e proprio benessere è stato qualcosa di invalidante si va diciamo ecco nella direzione di abbandonare questo tipo di energia ok quindi è come se voi più che andare a correre un rischio andate in qualche modo ecco a togliere quelle che sono le ambiguità per passare diciamo ecco in una direzione di tutto quello che per voi è oscuro segreto tutto quello che per voi sta appunto in quelle energie e vibrazioni diciamo ecco adottate e basse che vi possono tenere in qualche modo ecco in ansia soprattutto se ha a che vedere con la sfera sentimentale quindi con un corteggiatore con un corteggiamento o con le fasi diciamo ecco di un rapporto sentimentale che dovrebbe essere in divenire dove si dovrebbe praticamente coinvestire conquistare l'altro o essere conquistati come dire con una tazzina ve la portate appresso nel senso che intraprendete un nuovo viaggio un nuovo percorso c'è uno spostamento molto importante quindi siete voi che abbandonate questo tipo di campo non volete avere niente a che fare con queste cose assumendovi anche il rischio questo è il punto quindi non è che andate a fare uno sbolognamento totale qualcosa ve la portate quindi vi assumete diciamo ecco il rischio che dietro di voi non ci sia nessuno voi abbandonate questo campo con queste condizioni vi portate questo sentimento ok magari vi rifate il servizio di tazzine nuove come si suol dire ma non più quelle di prima non più quelle andiamo a vedere di che cosa vi liberate se c'è qualcosa dalla quale vi liberate in questo ambito qual è la detonazione abbiamo un 9 di bastoni beh qui la liberazione c'è sicuramente 9 di coppe quanti 9 nelle vostre estese allora abbiamo anche il matto scusate le ambulanze e a fondo mazzo abbiamo il cavaliere di spade ok qui abbiamo una carta legata all'aggressività qui abbiamo il rinoceronte sapete il rinoceronte è uno che si fa i fatti suoi però attenzione vedete qui abbiamo un motociclista con un coltello quasi diciamo ecco un po' simile questo centauro a quelli che erano gli uomini della giostra o diciamo ecco i cavalieri medievali no con la loro lancia lunga no quindi qua c'è come dire anche l'intento se vogliamo ecco di ferire quindi ha a che fare con l'aggressività fondamentalmente no abbiamo 9 di bastoni ci sono dei limiti vi liberate diciamo ecco delle limitazioni o di una certa rabbia o di una certa impulsività che vi vi fa andare se vogliamo ecco nel caos più totale ok quindi qui ci può essere come dire ecco un blocco un blocco che si sblocca o si può trattare per voi di liberarvi di un'aggressività e di un caos che non va a braccetto con il vostro benessere perché il 9 di coppe è comunque una carta che parla di benessere e di felicità per qualcuno si può trattare diciamo di sbloccare qualcosa per qualcuno si si può trattare di liberarsi di di metterli vincoli cioè di mettere proprio dei limiti di mettere dei confini personali quindi in definitiva per un verso o mettendo i limiti o togliendoli i limiti quello di cui voi vi liberate di destino ha a che fare con un'aggressività che porta caos nella vostra vita e questo non va bene a favore di un benessere ritrovato rinnovato di un nuovo inizio ok andiamo a vedere se c'è qualcosa che si sana che guarisce vediamo un po' cosa ci raccontano le carte ecco per voi che abbiamo la forza una regina di spade è un 5 di pentacoli abbiamo anche un 8 di pentacoli guarda guarda possiamo dire che non c'è come dire ecco una tappa in questo caso non c'è una guarigione come dire ecco totale non c'è come dire quella detonazione che porta alla guarigione tipo miracolosa questo no ma c'è l'avvio c'è l'impegno c'è un percorso in questo senso come i danzatori ballerini di danza classica ovviamente per arrivare a certi livelli l'impegno deve essere non solo quotidiano deve essere proprio costante quindi è come se queste persone dovessero come dire ecco anche dormire in un certo modo chi ha fatto danza classica lo sa mettendo i piedi in un certo modo addirittura ecco forzando quella che è la propria anatomia per sviluppare un collo del piede molto bello per avere una certa flessibilità una certa sinosità e doti che magari per qualcuno diciamo ecco non sono totalmente diciamo ecco innate ma per lavorare quindi si lavora molto su di sé quindi si vanno a sanare in questo caso diciamo ecco con un arcano maggiore di destino che è la forza quindi legato all'impeto alla passione anche a voler dominare a voler avere la meglio su diciamo ecco le forze ostili come potrebbe essere se vogliamo ecco in questa carta non si vede ma generalmente diciamo ecco c'è la donna che gentilmente domina il leone e le sue fauci senza temerne nessun male o senza temerne diciamo in questo senso un attacco quindi andate a guarire quelle che sono le vostre paure se vogliamo andate a sanare quelle che sono diciamo ecco le vostre i vostri dubbi sul ce la farò non ce la farò sono abbastanza forte quel sentirsi deboli quel sentirsi fragili quindi si sana tutto questo attenzione non solo con l'impegno ma anche con questa regina di spade la regina di spade tenete da conto che una donna voglio dire che non le manda a dire è una donna che anche a costo apparentemente di fare terreno bruciato è disposta come dire a ribaltare i tavoli se in quel tavolo quello che trova non gli piace quindi fondamentalmente se voi avete o vi siete accollati delle situazioni come si vede qua ambiguità cose che ok adesso tutto questo voi non lo accettate più come dire ecco arrivate a un punto nella quale andate a fare come dire ecco dei chiarimenti delle constatazioni andate a tirare fuori letteralmente il coraggio parliamoci chiaro in maniera tale da non arrivare a dei compromessi con un'audacia tale che ti fa dire ok questo è un piccolo cieco sul tavolo c'è sempre questo non mi interessa bye bye sayonara a voi diciamo ecco adesso non vi fa più paura andare nella direzione di una certa ecco freddezza quindi lo farete ho questo coraggio per voi ho questo impegno in qualche modo ecco a non essere più se vogliamo ecco un po' mollicci per qualcuno anche può essere che gli altri ti vedano questa tua tenerezza questa tua gentilezza quasi come se tu fossi una smidollata quindi fondamentalmente diciamo ecco va a ribaltare tutto questo e per dimostrare a te stessa dimostrare anche evidentemente in una data situazione dove c'è questa luna no che tu non sei così e che tu non accetti questo compromesso arrivi adesso al punto con una volontà e con una determinazione fortissima che è quella della regina di spade come dire ad ogni costo con un coraggio tale da dire sai che c'è a me tutto questo non mi interessa non mi sottometto mi libero dalla schiavitù non mi accontento non voglio essere ferita non voglio vivere in una situazione come dire ecco di ambiguità ok dove fondamentalmente per me si tratta ecco di un compromesso pertanto bye bye come si suol dire ecco sayonara va bene allora vediamo un po' quale sarà la tua rivoluzione quale arcano maggiore in questo senso ti coinvolge attenzione qua escono tante carte però si è voluta girare spontaneamente ecco l'imperatrice amica mia amico mio questa è una carta molto bella e come spesso vi dico è anche secondo me dal mio punto di vista anche la carta più bella di tutto il mazzo ecco dei tarocchi perché ha a che fare con qualcuno che non si fa mettere i piedi in testa praticamente ecco da nessuno ma questo farsi mettere non farsi mettere i piedi in testa da nessuno se qui sembra come dire anche un po' quel dente avvelenato diciamo ecco se vogliamo della regina di spade è il tuo modo di sembrare la regina di spade perché tu non sei abituata a volte ad essere così dura ad essere così tagliente in realtà diciamo è qualcosa che tu vai a forzare di te detona dentro di te perché evidentemente questo è necessario no? ma tu in realtà poi non è che sei la regina di spade in realtà sei l'imperatrice ok? quindi questo deve essere chiaro quindi non vai a detonare qualcosa dentro di te o non si va a detonare qualcosa dentro di te per un cambiamento come dire ecco più cinico più duro più austero più severo assolutissimamente no l'imperatrice è con lei che ha la fermezza è con lei che ha l'intelligenza la femminilità e soprattutto il trionfo con la capacità di avere le idee chiare di difendersi da ciò che non va bene però senza utilizzare le armi lei non è quella che ha le armi eh attenzione e non solo tiene anche la luna come si suol dire sotto i piedi questa luna che è stata l'ambiguità adesso a lei non interessa più dici io me la metto sotto i piedi ci cammino sopra non mi faccio dominare la domino l'attraverso la schiaccio questa ambiguità ok perché sono io che decido sono io con il mio pensiero tra virgolette ecco positivo puro so ciò che è bene so ciò che è male su questo trionfo e decido io ciò che va bene per me e ciò che va bene anche per far fiorire la mia vita intorno a me e non solo dentro di me questo è quello che ti accade la detonazione che avviene per te che hai scelto la pietra ecco della labbra dorite amiche amici fatemi sapere il tutto come vi risuona ci vediamo ecco per l'avanzamento ecco di questo corridoio di energie in un dei prossimi video e poi per quelli che sono gli appuntamenti dei canali e per oggi diciamo ecco buona luna nuova in aviete a presto ciao